Amici di Polifemo siamo a Mottola, è in corso qui in piazza 20 settembre il Mottola Folk Festival, una serie di appuntamenti in cui il vero leader, il vero protagonista, riconosciuto, indiscusso è il folk. Una musica popolare, una musica che coinvolge tutti, anch'io che non sono certo un esperto di folk, non sono un ballerino, ci mancherebbe, ma si provano quelle sensazioni che solo il folk sa dare, un coinvolgimento emotivo, coinvolgente, totalizzante. E allora cercheremo di ascoltare, di raccogliere le impressioni degli artisti, di coloro i quali qui questa sera con la serata appunto dedicata ai tamburellisti di Torre Paduli hanno animato la piazza. Quindi i primi, i protagonisti sono certamente loro, gli artisti, gli interpreti, i musicisti, le ballerine, coloro le quali ballano. Però poi dobbiamo anche ascoltare gli organizzatori, perché dinanzi ad un grosso risultato, a un successo davvero notevole, c'è tutta una organizzazione. E allora bisogna esprimere il plauso verso le associazioni, verso le istituzioni, verso l'amministrazione comunale. Questo è il Mottola Folk Festival, questa è la serata dei tamburellisti di Torre Paduli. Siamo con il sindaco di Mottola, il dottor Luigi Pinto, una serata all'insegna della buona musica dell'aggregazione popolare. E' proprio quel genere musicale, stiamo vivendo il folk festival di Mottola con i tamburellisti di Torre Paduli. Una musica, un genere musicale che non può non coinvolgerci e trascinandoci e trascinando i presenti in balli, come dire, a tutta velocità. Sì, questa sera, questa serata di un progetto che è il folk festival, è il primo anno che noi lo facciamo, ma in realtà parte dall'idea di mettere insieme i gruppi di musica popolare del nostro territorio, con il supporto anche culturale di esperti o comunque di storici della cultura meridionale per quanto riguarda il tarantismo soprattutto. Abbiamo anche degli autori locali che hanno scritto che sono fuori e l'idea è stata quindi di mettere insieme questa cultura popolare con la musica e dare un seguito magari anche per i prossimi anni. Abbiamo avuto quindi un primo folk festival delle serate, di cui questa è una di quelle, un peso più importante. Abbiamo questi ospiti tamburellisti di Torre Paduli che sono provenienti dal Salento. E vorremmo continuare su questo progetto. Mottola per la cultura musicale, ma non solo per questa, è nota per mettere insieme, collazionare davvero di anno in anno gli eventi. Quindi l'esperimento potrebbe essere anche questo, adesso di poter continuare l'anno prossimo e trovare cultura e spettacolo e territorio messi insieme su un argomento importante come quello della musica popolare. Potremmo dire cultura e musica con la E congiunzione, musica e cultura con la E del verbo essere, voce del verbo essere. Guardi, possiamo intendere questa cosa qui, noi abbiamo una missione amministrativa, quella di raccontare il nostro territorio, raccontare la sua cultura, ma soprattutto portare la gente qui a conoscerla. Il progetto è questo. Quindi cultura e musica insieme credo sono importanti nel momento in cui noi sappiamo raccontarli alle persone che non la conoscono. E quindi su questo dobbiamo lavorare. Un'occasione per stare insieme, tanti i problemi che ci affliggono, però una bella serata d'estate con un po' di fresco, si cerca un minimo di refrigerio e il piacere di stare insieme, di divertirsi. Motto la si presta a questo, è una collina, voi lo sapete, fa tantissime manifestazioni, riesce, diciamo, tra i tanti problemi a saper raccontarsi in questo momento culturale, in un contesto di una collina che è salubre, qui vengono tutti per passare delle serate, naturalmente. Quindi noi non vogliamo perdere anche questa occasione di essere un punto di riferimento per chi vuole passare delle serate, specie nel periodo estivo. E quindi raccontiamo qualcosa ai nostri cittadini, ma a tante persone che vengono da fuori. Anna Maria Notaristefano, assessore alla cultura del comune di Mottola. Proprio con il sindaco avevo usato questa battuta, musica è cultura, è congiunzione, ma anche è del verbo essere, un connubio per esaltare le nostre tradizioni, le tradizioni del nostro sud, le tradizioni del nostro Salento. Sì, hai detto bene, musica è cultura, perché la musica non è altro che un aspetto della nostra cultura e della nostra identità, nel nostro caso meridionale, una cultura legata alla terra, una cultura legata ai valori della famiglia, del lavoro. Se non la musica, quale altro mezzo migliore per trasmettere l'identità anche ai più giovani, ai giovanissimi, quali i bambini? Noi attraverso lo strumento della musica infatti abbiamo voluto trasmettere ai nostri bambini tramite laboratori e workshop quello che è la nostra identità. Si sono tenuti infatti laboratori formativi, laboratori di tamburello, laboratori di ballo. Questo perché? Perché ci teniamo a trasmettere alle prossime generazioni la nostra storia, che spesso a me viene dimenticata e io penso che la nostra mission, la mia mission anche come assessore è quella di consegnare ai posteri un valore molto profondo, quale appunto è la nostra identità. È importante perché si tratta di una manifestazione non prettamente ed assolutamente locale, ma di dimensione ultra provinciale, visto che comprende già altre realtà del Salento, una realtà pugliese e non solo motolese. Esatto, perché noi crediamo che fare rete è un'occasione di promozione territoriale di tutta la Puglia, non soltanto di una zona quale il Salento, anche perché Pizziche Tarantelle non è un'esclusività salentina, è diffusa in tutto il sud Italia. Noi attraverso questo folk festival abbiamo voluto comunque legarci ad altre realtà che sono storicamente già afferrate in questo settore. Perfetto. 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 Donato Rogante, direttore artistico del folk festival. Beh, ti sottoporremo a parecchie domande. Intanto, com'è nata questa passione? Perché una bellissima manifestazione come questa, beh, certamente richiede una passione interiore e anche tanti sacrifici. Poi parleremo proprio dell'organizzazione dell'evento. Allora, per prima cosa, io diciamo che sono nato a Pane e Pizzica, perché mio padre da... Figlio d'arte. Esatto, da quando ero piccolo che cantava le canzoni di musica popolare della nostra tradizione, faceva ascoltare molta musica della nuova compagnia di canto popolare e soprattutto dei tamburellisti del Re Paduli che stasera appunto stanno suonando come sottofondo. È una passione che col tempo è diventata un studio di uno strumento che è la fisarmonica, che è uno studio di altri strumenti della tradizione, non soltanto della nostra tradizione popolare pugliese, ma anche del bacino del Mediterraneo e quindi appunto che sfociato in questo folk festival alla fine è stato appunto coronare un sogno, creare appunto un festival sulla musica folkloristica. Parliamo dell'organizzazione di questo folk festival, in quante serate si è strutturato? Parliamo poi della serata di oggi appunto, quella con i tamburellisti di Torre Paduli. Ci sono state cinque serate organizzate da tutti i gruppi folk motolesi, quindi dal più giovane gruppo di cui ne faccio parte che è Tarantatré, appunto io, mio padre e mio fratello, poi il canzoniere motolese, il Motola Fonod, l'orchestra e Cuvra e infine appunto la serata finale con un gruppo dal Salento. L'organizzazione è stata possibile grazie non soltanto all'aiuto dell'assessore, ma appunto tutti i gruppi folk hanno collaborato, Giovanni Logante ha collaborato, abbiamo avuto un grosso aiuto dalla Proloco e anche da Toni Longo che ci ha appunto dato le possibilità appunto per andare avanti perché essendo la maggior parte ragazzi, giovani, non avevamo l'esperienza per andare avanti. È importante questo connubio, questa simbiosi tra associazionismo ed enti, ente comune e amministrazione comunale. Sì, soprattutto il comune che appunto, il sindaco l'anno scorso dopo le varie serate e tutti i gruppi folk aveva avuto quest'idea, cioè perché non facciamo un festival che racchiude appunto, che comprende tutta la musica popolare, tutti i gruppi di Motola e noi quest'anno ci siamo riusciti grazie soprattutto all'assessore della cultura, al sindaco, al comune che ci hanno dato un grosso supporto per queste serate. Pino Antonacci, per così dire il capofila di tutte queste organizzazioni, di queste associazioni che hanno permesso che gli eventi della musica folk a Motola abbiano avuto realizzazione. Grazie per l'opportunità che mi dà. La Proloco da poco tempo ha rinnovato le cariche e tutti i soci hanno voluto me come Presidente. Insieme abbiamo deciso di rilanciare, prima di tutto la Proloco, ma di rilanciare il nostro territorio, il territorio delle gravine, della murgia delle gravine. Abbiamo dei grossi progetti, ambiziosi progetti da realizzare. Abbiamo iniziato con questo momento di culturale musicale, rilanciando tutti i gruppi folkolistici di Motola, mettendoli insieme. Non è una cosa semplice, è una cosa abbastanza delicata anche perché molte volte dialogare con chi tutto sommato si fa competizione non è facile. Le posso dire l'esperienza di Tarra dove in generale, parlo in senso lato, l'associazionismo è spaccato, ci sono le divisioni, le invidi. Invece è positivo che qui le associazioni abbiano fatto fronte comune. Questo è merito sicuramente non tanto mio ma di tutti i membri delle altre associazioni perché hanno voluto veramente, si sono seduti intorno a un tavolo e hanno voluto veramente condividere questo progetto per ora, però in futuro ci saranno altri progetti che condivideremo. E' importante perché si dimostra in questo modo che c'è l'amore per la musica, c'è l'amore per il folk, cioè non c'è la voglia di apparire ma il fine è quello di fare musica. Sì, il fine è quello di fare musica, questo appartiene alle nostre tradizioni, questo appartiene al nostro territorio. Noi amiamo il nostro territorio, questo che ci spinge, questo che ci fa stare insieme, questo è il collante che ci fa stare insieme e sicuramente in futuro realizzeremo altri progetti che altri progetti. Speriamo che ci possa essere sempre molta più partecipazione e la gente venga a Mottola e si sente a Mottola non come forestiero, ma si sente a Mottola non come ospite, ma si sente a Mottola come amico, si sente a Mottola come coccolato, come veramente, come a casa sua. Grazie. Eccoci con il dottor Dino Rogante, presidente dell'associazione Taranta 3, ma io dico anche il padre storico del folk a Mottola, una tradizione che si sta tramandando di padre in figlio, ma è lui, come dire, il mentore, è lui l'anima, è lui la storia del folk a Mottola e non solo. Sì, a cominciare dai ultimi anni del settanta e primi dell'ottanta con il professor Leuzzi, compiando il professor Leuzzi, facevo parte del primo gruppo folk, abbiamo fatto delle tournee, diversi premi, poi c'è stato un periodo di studi, l'università ci ha un po' fatto trascurare, appena tornato qui a Mottola abbiamo ripreso subito questa tradizione che per noi è una passione, mettere su gruppi con cui abbiamo lavorato, sostanzialmente i gruppi che sono nati a Mottola sono figli di questa esperienza, di questa tradizione, di questo continuo sollecito a praticare e a invogliare i gruppi a suonare e praticare la musica popolare. Così il sindaco l'anno scorso, in un suo breve intervento in un'occasione del genere, chiedeva se c'è stata la possibilità di mettere insieme i gruppi e poter realizzare un... E la cosa è avvenuta? E grazie a Dio, con l'aiuto di tutti, veramente con tanto sacrificio, perché anche io nonostante l'età non sapevo cosa potesse significare l'organizzazione di un evento simile. Per l'anno prossimo? L'anno prossimo, grazie anche alle promesse del sindaco, credo che cresceremo, abbiamo ormai individuato anche con questa esperienza le novità e il giusto equilibrio che noi pensiamo di poter realizzare con un mix di confronto fra quello che è la nostra musica popolare, quindi quella della bassa murgia, con quella più tradizionale salentina. Vorremmo creare questo connubio e quindi la possibilità di poter far confrontare i nostri gruppi con i gruppi salentini e questo credo che sarà la novità per l'anno prossimo. Beh, quando siamo a Mottola e si parla di arte, si parla di cultura, si parla di musica, non si può fare a meno di Giovanni Rogante. Giovanni Rogante è un po' come la mamma, che quando ci sono problemi riesce a trovare la soluzione a tutto e poi splende il sole nel cielo, in questo caso è notte, non splende il sole ma la luna, ma ci allettiamo con questa musica davvero divina. Giovanni Rogante sta dando una mano grossissima per l'organizzazione di questo folk festival. Tanti anni di esperienza non sono, come dire, aria fritta. Intanto bisogna dire che bisogna avere la passione, io l'ho sempre avuto per l'organizzazione, ma a maggior ragione stavolta che era Dino, mio nipote, a organizzare e quindi sono impegnato al massimo. Chiaramente tanti sacrifici, però i risultati poi sono buoni, quindi spero che il prossimo anno se Dio ci darà vita possiamo fare una cosa ancora meglio. Anche perché poi è bello che tanti sacrifici ricevono il consenso, l'apprezzamento della gente. È questo il risultato che gratifica, che dalla spinta, dalla voglia di andare avanti, di continuare e di fare sempre meglio, di dare sempre qualcosa in più. Io penso che la cosa migliore è vedere la piazza con tanta gente, di sorridere, si divertono e penso che questa è la cosa più bella che Motta la possa offrire a un pubblico vasto. Siamo con Domenico Scapati, scrittore, cultore di, consentitemi il bisticcio di parole, Cultura, contadina, miti e riti, tarantismo e tarantolismo, musica e danza popolare, Notte della Taranta e autore del libro che ha avuto la cortesia di donarmi, La danza del ragno, autore appunto Domenico Scapati. Beh, come dire, ci illustri questo regno della danza del ragno? Allora, intanto il libro nasce dal fatto che io sono stato contadino, una vita, da ragazzo, i miei nonni, i miei bisnonni, origini dalle masserie, quindi abitazione nelle campagne e vivendo la campagna, vivendo la terra, ho potuto in qualche maniera approcciare quello che era il fenomeno del tarantismo di una volta. Questo fenomeno legato al ragno, ma è un ragno per modo di dire, perché non è proprio un ragno che morde, ma è qualche cosa che pizzica, o che pizzica ancora, visto che parliamo di pizzica pizzica, o di pizzica tarantata o di danza delle spade. Questo nell'ambito del ballo, ma io mi sono occupato anche della coreutica del ballo e della musica, quindi di che cosa? Della cromatura, i colori degli abiti da parte di coloro che ballano queste magnifiche, queste bellissime danze. Tutto però ha origini antiche, si lega al strabone, si lega a fenomeni che hanno riferimento e sono scritti già intorno al 200-300 a.C. per arrivare attraverso scrittori sino ad oggi. Mi sono occupato dell'Argia del Sarda e soprattutto del Ragnatello Nero in Sicilia, il famoso Ragnatello Nero citato da Meli, da Giovanni Meli, ovvero anche da Goffredo Malaterra, quando i normanni sono sbarcati in Sicilia, a Palermo, sul monte Tarentenum, per cacciare i Saracini. Era sulla fine del 1200, nei primi del 1300. E questo è un po' stato il contenuto di questo libro che in qualche maniera vuole essere un approccio al fenomeno del tarantismo, non lo studio completo del tarantismo che noi abbiamo lasciato nelle mani di Ernesto De Martino, ma soprattutto oggi nelle mani di Pierpaolo De Giorgi, che questa sera sta suonando qui a Mottola con i suoi tamburellisti di Torre Paduli. E allora lo leggerò con attenzione e poi avremo modo di rivederci e di commentarlo insieme. Grazie, siete stati gentilissimi ad intervistare. Grazie a lei. Ed eccoci con i veri protagonisti, sono loro i tamburellisti. Cercheremo di ascoltare il loro pensiero. Cosa si prova nell'essere dominati da questo tamburello? Eh, non è che il tamburello ci domina, siamo noi a dominarlo perché lui tenta a dominarci, però siamo noi che diamo il massimo sulla pelle, sui sonagli e sul ritmo. Da quanti anni coltiva questa passione? 26 anni, oltre 5.000 concerti in tutto il mondo. E qui a Mottola avete trovato terreno fertile? Sì, è una bellissima cittadina e grazie all'amministrazione siamo riusciti a fare una bellissima manifestazione culturale ed è importante che le tradizioni vengano mantenute. Infatti ci sono tantissimi bambini che hanno il tamburello in mano. Un giovane tamburellista, quanti anni? Io ho 20 anni, 21 ottobre. Da quanti anni pratichi questa... Da quando ero nel limbo, da quando ero nel limbo della mano. Figlio d'arte o proprio così qualcosa di tuo? Sono figlio di Donato Nuzzo e di tutti i tamburellisti. Beh, qui a Mottola ti trovi, tu sei di Torre Paduli? Torre Paduli. Il Salento ci unisce? Certo, abbiamo tutti un fulo che ci accomuna, soprattutto la tradizione, questa musica. La violinista e la ballerina per completare questi artisti, questi assi che stanno sfondando qui a Mottola. È davvero bello vedere anche gente non di Mottola che è stata presa, che si è fatta prendere dalla passione del folk. Non le faccio una domanda, esterni le sue emozioni, le sue sensazioni. Noi siamo contenti di vedere Mottola in festa, abbiamo notato anche la grande partecipazione che ha questo pubblico e quindi benvenga la pizzica pizzica a Mottola. Il violino che si sposa col tamburello? Si amano alla follia, fin dall'inizio. E la danza che è compagna del tamburello? La danza è, diciamo, indispensabile perché la pizzica, insomma, nasce come musica che guarisce, per cui, insomma, è una danza terapeutica come la pizzica è una musica terapeutica. Professore Pierpaolo De Giorgi, musicologo, filosofo, dobbiamo analizzare dal punto di vista sociologico, per così dire, questo fenomeno. È un fenomeno che evidentemente sottende delle sensazioni, dei meccanismi psicologici che si sprigionano nell'animo e che hanno un effetto di coinvolgimento collettivo. Assolutamente, se noi pensiamo che la parola psiche vuol dire anima in greco, quindi la nostra psiche e la nostra anima viene coinvolta fortemente dal ritmo, dalla forza, dall'energia che viene dalla pizzica antica. E quindi crea una grande emozione estetica. Forse, al volo proprio, perché è impegnatissimo, forse anche si potrebbe dire un effetto catartico talvolta in queste pratiche. Sì, è proprio il riscatto. Assolutamente sì, è la catarsi antica greca che consiste nell'inversione del negativo in positivo, di tipo pitagorico. Ed ecco un'altra appassionata di pizzica. La signora con la sua amica hanno davvero monopolizzato così la serata tra i partecipanti. Un trasporto, una musica, un folk che si sente dentro. Sì, infatti è veramente carino fare questa serata qui, è la prima volta che veniamo, quindi è molto interessante, ci siamo divertiti, abbiamo passato una bellissima serata. Grazie, grazie per questa manifestazione. Mottola attrae turismo, ha un forte appello turistico e la riprova la troviamo tra i presenti, tra i partecipanti. A questo folk festival, a questa esibizione di tamburellisti, abbiamo trovato degli spettatori, dei partecipanti scatenati. Beh, come si può non muoversi con questa bellissima musica? Per me è stata un'emozione grande, davvero. L'abbiamo vista scatenata in pista? Assolutamente sì, io poi vengo da Milano, ma sono pugliese, quindi... Calore del sud! Assolutamente. Contro la nebbia di Milano! Eh beh, è vero, è vero. Complimenti comunque, bellissima serata.